Ora vi faremo notare tutte le cose belle che abbiamo acquisito in questi anni di esperienza. Prendila, lo siete, prendila! Perché noi non abbiamo le cose comuni, come sempre. Cioè ragazzi, non avrò perché è un regalo. Cioè ma non so se si capisce. Gaff! E tutto questo! E tutto questo grazie al mio ragazzo. Ti amo amore! Simo! Questo è una cosa bella! Poi? Questa è una cosa bella! Facciamo qui? Poi? Qui? Qui? Ah ma qui non si vede. Va bene, da, qui, qua, te. Il mio cervello. Poi. Questa sarebbe ambra. Piccola. Questa sono io. Ciao! Si vede un cacchio. Ed è un mio regalo di Natale. È una vambola fatta proprio, fatta a mano, da Dio. Notate. Notare bene. Guardate qua. Ma non so se mi spiego. Che bella! È stupenda. Per forza, è M&M la ragazza. Lost Jean. Quindi è forte bella. E poi, ehm... Ma ti ha passato l'arma? Justin. Justin, il medico Justin che ci incita a fare altri video, ma noi... Comunque non riusciamo a fare. Allora, andiamo a prendere Justin. Quello è Estrella. Eh? È Estrella. Estrella, chiesti. Si chiama Estrella? È chi? Ah, è proprio Estrella. Allora, lui è Justin. E ci accompagna in questo viaggio difficile chiamato Vita. Oh signore, Vita. Quando dormo, Justin occupa la maggior parte del mio letto. Quindi, o cado io, o cade Justin. Però quando lo scendo forte, mi sento solo a testa. Ciao! Ed è molto bello. Cioè, non lo so. Non so se mi spiego. Sembra un maiale da dietro, però. Si, effettivamente da dietro sembra... Al gigante a 30 euro. Ecco. Prenditelo anche voi. Già si infera a scalpore. Poi mi diamo. Cose belle, cose belle. Wow, abbiamo una stanza piena di cose belle. Qualcuno ha un minimo di cultura? Barcelona. Non avete cultura! Non avete capito? Che cosa sono? Alza la webcam. Fa vedere tutta la nostra bellissima camera. Molto osaku. Ecco, va che bella che è. I poster che gustano. I poster, poi i queen. Dove sono? Qua. 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 Però si sa che fa molto dark. Il mio vestito è meraviglioso. Che ha fatto mio mio amico. E... È tutto qui. Sì. Finito. Basta. Ciao! Non so cosa la posso interessarvi, però è la carina. Sì. Così. Ciao! 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 Ciao!